Thank you for the music, il musical con le canzoni degli Abba. Sabato 2 aprile alle 21 e 15 e domenica 3 aprile alle ore 17 e 15 al Teatro Comunale di Porto San Giorgio. Parte del ricavato sarà devoluto all'Avis Provinciale Fermo per info 328 15 76 186. Thank you for the music. Venite a riascoltare le celeberrime musiche degli Abba. Sabato 2 e domenica 3 aprile a Porto San Giorgio. Grazie a tutti.